Il coronavirus può essere diffuso efficacemente anche da chi presenta sintomi lievi. Lo spiega uno studio condotto dal team dell'Università Carite di Berlino pubblicato sulla rivista Nature. La ricerca ha preso in esame 9 pazienti tra giovani adulti e anziani con sintomi lievi dell'infezione da coronavirus, rilevando che c'è un'attiva replicazione del virus nel tratto respiratorio superiore, tale che i pazienti possono diffonderlo anche ad alti livelli durante le prime settimane della comparsa dei sintomi. Inoltre, non è stata trovata nessuna traccia del virus in urina e feci. Questo potrebbe significare che non sono veicoli di trasmissione e contagio, anche se, secondo gli scienziati, l'argomento andrebbe affrontato con ulteriori studi. Unica prova orale a distanza via web. Sarà questo l'esame di maturità di quest'anno, scolastico, se gli studenti non torneranno in classe entro il 18 maggio. Lo prevede il provvedimento che contiene le misure urgenti per gli esami di Stato. Nel caso di ritorno in aula, la seconda prova sarà predisposta dalle commissioni che sono interne con un solo membro esterno, il presidente. L'alternanza scuola-lavoro non sarà requisito per accedere all'esame. Per quanto riguarda poi le classi intermedie, nel caso in cui l'attività didattica nelle scuole riprenda entro il 18 maggio, il provvedimento prevede la definizione dell'eventuale recupero degli apprendimenti in tutti i cicli nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1 di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Dunque nessuna bocciatura sembra essere prevista alla fine di quest'anno scolastico. I viaggi di istruzione, iniziative di scambio, gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche sono sospese fino alla fine dell'anno scolastico. L'Italia e altri 13 paesi dell'Unione Europea hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale si dicono profondamente preoccupati dal rischio di violazione dei principi dello Stato di diritto in Ungheria, dove a causa dell'emergenza coronavirus, nei giorni scorsi il Parlamento di Budapest ha approvato misure d'emergenza che hanno conferito pieni poteri, a tempo illimitato, al Premier Orban, che potrebbero sconfinare nella società civile. I leader di 13 partiti nazionali del Partito Popolare Europeo hanno chiesto con una lettera a Donald Tusk l'espulsione di Fidesz di Viktor Orban dalla più grande politica dell'Unione Europea. L'inverno 2019-2020 è stato il più caldo di sempre in Europa, con 3,4 gradi in più rispetto alla media del periodo di riferimento, il trentennio 1981-2010, un valore superiore anche all'anomalia globale di 0,8 gradi, a comunicarlo il Copernicus Climate Change Service.